Musica Con il nuovo decreto del Ministro della Salute della Campania in zona russa. Tale decisione non poteva che essere assunta dal Ministero della Salute dopo che sono intervenuti nei due giorni scorsi due fatti nuovi e decisivi. In primo luogo l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre che riserva all'esclusiva competenza del Ministro della Salute la collocazione delle singole regioni nelle ormai famose tre fasce di rischio. In secondo luogo ma non di minore importanza la posizione assunta dallo stesso Governo che ha escluso nei giorni scorsi il riconoscimento a carico delle risorse nazionali di ristroi resi necessari da misure restrittive e decise da ordinanza regionale. Così una notte il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Dopo lo straordinario sforzo regionale in occasione del primo lockdown con un piano socio-economico di oltre un miliardo di euro era evidente che la Regione non potesse sostenere con risorse proprie il peso dei ristroi richiesti da un nuovo lockdown se anche le norme lo avessero consentito e non lo consentono. A seguito di questi due fatti nuovi, proseguendo la notte, si sarebbe dovuta chiudere in tre minuti la gazzarra degli ultras nella zona russa ad iniziativa della Regione? Invece niente da fare. La gazzarra è continuata nell'ambito di una campagna vergognosa di aggressione alla Regione Campania e al suo Presidente. Il virus del cavo avvolgimento della verità dei fatti si è diffuso veloce trovando focolai accoglienti in numerosi salotti televisivi. Abbiamo assistito al bollettino quotidiano delle falsità pur di aggredire e denigrare l'azione del Governo regionale. Dati truccati per restare in zona gialla? Falso. Indagia della procura sui dati truccati? Falso. La campagna ipodicida dallo suo lockdown regionale? Falso. Medici offerti non utilizzati? Falso. Come mai questo accadimento? Semplice. Dà fastidio l'idea di una Regione che smentisce triti e stanti i luoghi comuni ed un Presidente che parla un linguaggio duro, libero, di verità, potente solo permettere. A differenza di tanti yes-men, facili e predi di commentatori in veste di inquisitori. Ma la dura realtà del momento, prosegue l'esponente della Giunta De Luca, impone di non perdere altro tempo a smentire sciocchezze di chi fa finta di non capire o nonostante gli sforzi non ci arriva proprio. Occorre mantenersi concentrati sulle gravi emergenze da affrontare. Come chiesto dal Presidente De Luca al Governo, con nota del 31 ottobre, occorre agire subito. Per le attività economiche occorrono misure di sostegno finanziario alle aziende, ristorio per mancati ricavi, bonus per professionisti e titolari di partita IVA. Per l'occupazione, blocco dei licenziamenti, proroga degli ammortizzatori sociali e dei programmi di pubblica utilità, ricollocazione occupazionale del personale appartenente alle diverse platee in campo ambientale e di servizi pubblici. Occorre porre fine alla lunga fase di precariato che si rascina da troppi anni nei confronti di lavoratori socialmente utili che, in prossimità della scadenza e delle convenzioni di utilizzazione, hanno legittima aspettativa di stabilizzazione. Il nuovo piano socio-economico, conclude Bonavidago, dovrà comprendere anche un nuovo capitolo per un sostegno straordinario alle vecchie e nuove povertà in fase di emergenza Covid, con il pieno coinvolgimento in fase di cognitiva dei fabbisogni degli ambiti territoriali per le politiche sociali e delle associazioni del terzo settore. Su questi temi proseguirà nei prossimi giorni il confronto del Governo regionale e con le forze sociali. Di Maio ha detto cose ignobili e il Presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Mentre io dicevo che il contagio era dietro l'angolo, ci si è illusi che si potesse controllare la situazione. Ora però dobbiamo dare una grande prova di unità nazionale, a condizione che il Governo si metta nella condizione di essere aiutato, prosegue il Presidente della Campania. Se ci sono ministri che si mettono a fare sciacallaggio, il Presidente del Consiglio deve richiamare i ministri all'onestà intellettuale. Ministri che si sono espressi sulla base della più completa ignoranza. Ci ho detto, dobbiamo oggi collaborare con il Governo, a condizioni che ognuno faccia il proprio dovere, di fronte a un filone sotterraneo di razzismo antimeridionale, con un esponente che Campano ha dato mano allo sciacallaggio, mentre qualche amministratore di Napoli ha dato una mano, non avendo mai fatto niente per la sua città. C'è stato un amministratore che a Napoli è stato 102 volte in televisione per parlare male di Napoli e della Campania. Qualcuno vuole farsi pubblicità ridicando con me. Io però ho tempo da perdere, non ne ho. Chi era una nullità prima, era e resterà una nullità sempre. L'attività esce a callaggio contro la Campania e sarà avviata perché c'era da colpire un uomo che parla chiaro, che non partecipa alle massonerie, alle aggregazioni di correnti, alle corporazioni. Per questo andava colpito. Sono uno che non sarà mai politicamente corretto. Dico che Di Maio ha detto cose ignobili ed il Presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire. Noi in Campania stiamo combattendo a mani nude. La Regione Campania, rispetto ad esempio al Veneto, che ha un milione in meno di abitanti rispetto alla Campania, ha 16.000 dipendenti in meno. In queste condizioni abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo le terapie intensive con un tasso di occupazione che è di sotto del 30%. Grazie a tutti.